ciao rivederò quello che accadde veramente quella notte di 13 anni fa d'accordo, grazie ciao si? beh, mi chiedevo se tu mi chiedevo se magari vuoi che venire a balla con me un ragazzo così bello ecco, mi chiedevo se magari tu volevi venire a balla con me oh, mi ero quasi dimenticato che tu eri qui qui, sulle ossa di mio padre ti presenterei agli altri, ma dicono che tu sei famoso quasi quanto me di questi tempi d'accordo, si, bene benissimo non c'è problema da cazzo, bene Harry io ti ucciderò cazzo, quindi ecco che potrà